Il governatore Luca Zaia e i prefetti delle sette province venete hanno firmato a Palazzo Balbi l'intesa che definisce le rispettive competenze e attività per lo svolgimento del referendum sull'autonomia del 22 ottobre. Rispondiamo con i fatti e con le carte, scandisce il presidente Veneto a chi sostiene che questa non è una consultazione seria ma un sondaggio a carico dei contribuenti. Non è una sondagione, però i sette prefetti del Veneto hanno firmato, si è firmato, quindi ringrazio per questa collaborazione, tutta una serie di attività che faremo assieme e sono adempimenti, ad esempio la gestione dell'ordine pubblico ai seggi, la disponibilità delle sedi scolastiche per fare il referendum, l'apertura dei municipi il giorno del referendum e molto altro ancora. Chiarito anche il dubbio sulla tessera elettorale che sarà obbligatorio portare con sé al seggio, contrariamente a quanto trappelato nei giorni scorsi da alcune illazioni, anche se il timbro della votazione verrà fatto altrove. Diciamo i cittadini, altra polemica inutile, che dovranno presentarsi con la tessera elettorale, è bene ricordare che i cittadini dovranno presentarsi con la tessera elettorale e poi verrà rilasciata una ricevuta dell'avvenuto voto. Poco plausibile, a meno di un miracolo, l'Election Day con il referendum sulla separazione di Mestre e Venezia o con quello sull'autonomia di Belluno. Tra 48 ore scadranno infatti i termini di legge per alcuni adempimenti obbligatori, ma Zaia garantisce che il Siparia non è calato su queste consultazioni che si potranno realizzare in un futuro. La parola passa ora ai veneti, se dalle urne non uscirà un risultato chiaro in favore dell'autonomia, assicura il governatore, sarà il primo a cestinare questo tema. Se uno su due se ne sta a casa e non vota vuol dire che non è prioritario parlare di autonomia in Veneto, ne dobbiamo prendere atto, qui nessuno si innamora delle cause. La verità è che io ci credo fino in fondo all'autonomia, però rispetto anche il parere di 5 milioni di veneti che dovranno decidere se ci credono oppure no.